La Caffetiera Espresso è un tema molto di casa per la Alessia. Noi abbiamo una collezione di caffetiere disegnate da alcuni dei talenti più interessanti del design internazionale e a un certo punto mi mancava qualcosa. Il passaggio è stato veloce, era il momento in cui avevo voglia di lavorare con Michele e l'ho chiesto a Michele. Mi sono sforzato e Alessia mi ha richiesto insistentemente di disegnare un prodotto di grande riconoscibilità, molto diverso dai prodotti esistenti, molto immediatamente comprensibile, che si capisce subito che è una caffettiera, ma anche che è una caffettiera diversa. La Caffetiera Espresso è stata presentata l'anno scorso, nel 2015, in anteprima durante la Expo di Milano. È stata poi messa in commercio vero solo nell'autunno del 2015 ed è in questo momento il best seller di tutte le nostre Caffetiere Espresso. Il vero problema di disegnare una caffettiera oggi è come dare personalità a una caffettiera. E credo che il successo di questo oggetto qui deriva proprio dalla sua forte personalità. È quasi un piccolo monumento, una piccola scultura. Questo oggetto qui è bello indipendentemente. Questa caffettiera fa un caffè molto buono.